Microsoft durante la Gamescom ha annunciato a sorpresa la quarta serie di Age of Empires. Il filmato mostra diverse civiltà, tra cui quella romana, i nativi americani bretoni ed i giapponesi. Microsoft ha annunciato le Remastered del secondo e del terzo capitolo della saga. Ulteriori dettagli sul ritorno della leggendaria serie saranno rilasciati più avanti. La data di uscita purtroppo resta un mistero.